Come prevedibile dunque il Consiglio che ci apprestiamo a celebrare verterà in gran parte, ancora una volta, sui grandi temi dell'agenda internazionale. L'appuntamento di giovedì e venerdì a Bruxelles, preceduto da un vertice con i paesi dei Balcani occidentali, ha al proprio ordine del giorno diverse questioni cardine. L'aggressione russa dell'Ucraina, la crisi in Medio Oriente, l'allargamento dell'Unione Europea, l'attuazione della nuova politica migratoria della UE e la revisione del bilancio pluriennale per adattarlo alle sfide nuove con le quali ci confrontiamo. Ma mancherei di onestà intellettuale se non affrontassi per primo il tema che, anche se formalmente non all'ordine del giorno del vertice, in questo momento vede maggiormente concentrata l'Italia e che in ogni caso avrà ricadute molto importanti sulla tenuta e sul futuro dell'Unione. Mi riferisco ovviamente alla riforma del patto di stabilità e crescita, sulla quale come sapete il Governo è impegnato da mesi in condizioni negoziali certamente non semplici, mesi nei quali non abbiamo mai smesso di adoperarci per un approccio costruttivo e pragmatico che consenta finalmente di bilanciare la necessaria solidità dei bilanci nazionali e la sostenibilità dei loro debiti pubblici, con l'indispensabile sostegno alla crescita e agli investimenti. Perché non è stato così fino ad oggi e non possiamo permetterci che continui a essere così da domani. Ma voglio dire che a dispetto di alcune semplificazioni che ho letto che spesso alimentano una contrapposizione tra i cosiddetti paesi virtuosi e quelli, diciamo così, spreconi, tra frugali e spendaccioni. Oggi la posizione negoziale dell'Italia parte da una base di credibilità e da una serietà che sono riconosciute alla nostra nazione grazie al lavoro di questo Governo, in particolare grazie al lavoro del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.